Buongiorno e ben ritrovate su Priladonna, io mi chiamo Natalia e voglio condividere con voi un lavoro che lo svolgeremo insieme, quello di sistemare la dispensa. Io ad oggi purtroppo non avevo trovato la soluzione migliore per tenere tutto in ordine, avere un controllo di quello che ho, quello che mi manca e soprattutto le date di scadenze. Oggi ho fatto qualche acquisto all'IKEA che spero che mi aiuti veramente di trovare la soluzione comoda e utile per sistemare anche questo spazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci qua finalmente con il risultato che volevo ottenere. Sono molto soddisfatta e spero che sia anche di ispirazione per la vostra cucina o per la vostra dispensa. Ho ancora qualche kick da consigliarvi che utilizzo già nella mia cucina ma sicuramente succederà con un prossimo tutorial. se volete lasciare qualche commento, qualche parere vostro personale, sarò felicissima di leggere e di rispondere ai vostri commenti. Ora non mi resta che salutarvi e ci vediamo con un prossimo video. Ciao!